Siamo con Domenico Ianezzi di Ford Italia che oggi ci presenta la nuova Focus, parlaci un po' di questa Focus. Il Salone di Ginevra per noi è un salone importante, l'espressione di come la strategia One Ford a livello globale ci permette di fare passi avanti sulle novità di prodotto. Due anni fa ad Amsterdam abbiamo fatto una promessa al mercato, quella di avere nei prossimi 5 anni 25 nuovi prodotti, 10 già sono arrivati e 10 arriveranno quest'anno. La Focus ne è un'espressione, la Focus è una macchina globale, mondiale, nasce nel 98, più di 12 milioni di vetture vendute nel mondo, 7 milioni in Europa e in Italia più di 450 mila. La Focus è la numero 1 al mondo nel 2013 come nameplate, nonostante questo non ci fermiamo e continuiamo a fare un passo avanti, nello stile e nella tecnologia. Nello stile perché? Perché questa nuova Focus riprende questo griglia trapezzodale che ormai contraddistingue tutte le nuove Ford, la nuova Fiesta lanciata un anno fa, la nuova Mondeo che arriverà. E quindi dal punto di vista dello stile è un passo avanti e il family feeling Ford che viene raggiunto anche sulla Focus. Cosa possiamo aspettarci questo avvento? Cosa ha in più rispetto a... Beh, ha tanta tecnologia in più a bordo, pensiamo al Sync 2 per esempio, che è questo sistema di connettività a comando vocale che sulla Focus fa un passo avanti e quindi questo non solo controllare con la voce l'audio system e il telefono, ma anche il navigatore e il climatizzatore. Grazie a questo display touchscreen da 8 pollici basta dire ho fame e sul navigatore, sul display compare la lista di tutti i ristoranti che ci sono nella zona oppure basta dire ho caldo e parte il climatizzatore e lo controlliamo con la voce. Pensiamo ai motori, il 1000 EcoBoost, questo motore pluripremato di Ford che sulla Focus raggiunge un altro benchmark, quello di essere l'unica family car benzina non ibrida a raggiungere la soglia dei sotto 100 grammi di CO2. Oppure pensiamo al sistema di parcheggio semiautomatico che Ford ha su altre vetture, ma sulla Focus si aggiunge il sistema di parcheggio non solo quello tradizionale laterale ma anche quello perpendicolare a spina di pesce. Addirittura ci sono i sensori dietro che ti avvertano nel caso in cui arriva una vettura alla tipica situazione di parcheggio quando esci dal parcheggio. Oppure il sistema di lactis di stop, di frenata di emergenza che prima aveva una soglia di tolleranza fino a 30 km orari, sulla Focus arriva a 50 km orari, quindi tanta tecnologia utile e la conferma di come la strategia One Ford ci permette di fare un passo avanti su prodotti di questo tipo. Ma mi piace ottenere che il sistema di Ginevra non è solo Focus ma è Mustang, questo simbolo, questa icona americana che finalmente arriva anche in Europa, arriva anche in Italia. Sulla EcoSport cosa ci puoi dire? Cosa vi aspettate dal mercato? Ci potrà essere una sovrapposizione con la B-Max? L'EcoSport, oltre la Cuga che abbiamo lanciato qualche anno fa e che nel 2013 in Europa ha raggiunto il suo picco con le oltre 100.000 unità vendute, allarghiamo la nostra offerta nel segmento dei SUV con l'EcoSport che è il SUV di dimensioni un po' più piccolina sul pianale Fiesta. Il lancio al pubblico ufficiale sarà a giugno ma noi già a dicembre abbiamo venduto circa 100 unità su internet e quindi è stata una prima esperienza, un esperimento per Ford di fare questo tipo di attività di premendita solo su internet e a febbraio ne venderemo altre 125 solo su Facebook. Quando arriverà realmente sul mercato, quando potremo vederlo e anche come posizionamento di prodotto? Le 100 unità verranno immatricolate, quelle che abbiamo venduto a dicembre, le prime 100 unità saranno consigliate ai clienti tra marzo e aprile, il lancio al pubblico ufficiale sarà a giugno ma l'offerta SUV per Ford non si limita qui, quindi la Cuga, l'EcoSport fra qualche mese, ma la Edge che va a completare l'offerta dei SUV per Ford, la Edge che è un altro mito americano ed è un successo incredibile come SUV in America, arriverà anche in Europa, arriverà anche in Italia a completare l'offerta SUV per quanto riguarda Ford. Ok, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.